Ben trovati gentili telespettatori, la nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Inevitabilmente si parla di coronavirus anche in questa regione. Sono state allora subito prese in esame eventuali precauzioni, anzi dettate anche oggi nell'incontro che il vicepresidente del regione Friuli Venezia Giulia, l'assessore della sanità Riccardo Riccardi, ha poi tenuto con tutti i sindaci proprio a Udine. Ma sono state individuate anche per eventuali emergenze due strutture per eventuali isolamenti dei pazienti. Partiamo da qui allora, da Palmanova, sentiamo il servizio di apertura del nostro telegiornale. Sono due le strutture individuate in Friuli Venezia Giulia per ricoverare pazienti che presentino sintomo da coronavirus per eventuali periodi di quarantena. Uno in prossimità di Trieste e l'altro in provincia di Udine, nel comune di Tricesimo. Lui ha reso noto il vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi a termini del comitato operativo della protezione civile del Friuli Venezia Giulia con il Dipartimento nazionale al quale ha partecipato il ministro della salute Roberto Speranza. Il numero delle persone sotto osservazione non è mutato ed è stato confermato che i casi sono risultati tutti negativi. Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardi ha reso noto inoltre che l'evoluzione della situazione è increscendo e che anche il Friuli Venezia Giulia sta continuando l'organizzazione delle misure di prevenzione a cui si sta dedicando ininterrottamente dalla fine di gennaio e che sta proseguendo con particolare intensità. La regione ha invitato a non alimentare alarmismi, a contattare il 112 per chiedere informazioni in caso di preoccupazione in ordine ai sintomi che si possono riscontrare e a non accedere ai pronto soccorso se non in caso di effettiva necessità. Nella sera operativa di Palmanova, in corso poi dopo la riunione con i presidenti degli ordini dei medici e con i rappresentanti delle aziende sanitarie della medicina generale del Friuli Venezia Giulia, in regione non ci sono casi conclamati di coronavirus. Lo ha invitato allo stesso presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga al termine della videoconferenza con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il capo dipartimento della protezione civile e commissario per l'emergenza coronavirus Angelo Borrelli. L'attenzione è massima, le misure molto forti. Stiamo operando come se ci fossero dei casi in Friuli Venezia Giulia, anche se non ci sono. Lo ripeto, per garantire la massima sicurezza alla popolazione. Per questo non si sta adottando le stesse misure previste per le regioni limitrofe in cui sono presenti i focolai. Per garantire la massima trasparenza con i cittadini, ha concluso il governatore, abbiamo predisposto un aggiornamento quotidiano. E adesso andiamo tra Trieste e Udine. Le precauzioni sono quelle di cercare di fermare questo contagio, in che modo con il blocco di molte iniziative, lezioni sospese alle università di Udine e di Trieste, almeno per tutta la settimana, stop anche alle manifestazioni. Ma facciamo il punto nel servizio. L'evoluzione della situazione relativa alla diffusione del coronavirus consiglia, in accordo e sinergia con la regione Friuli Venezia Giulia, in via precauzionale, l'adozione di misure cautelative a tutela della salute pubblica e del sereno funzionamento delle attività istituzionali di tutti gli atenei delle Friuli Venezia Giulia, stante la naturale e rilevante mobilità degli studenti, soprattutto provenienti da regioni in cui si sono già verificati casi di positività al virus. Per questo motivo, da oggi e fino a domenica compresi, sono sospese le attività didattiche, lezioni, esercitazioni, tirocini, seminari e similari, gli esami di laurea di profitto, le conferenze o i dibattiti. Saranno altresì chiuse al pubblico le biblioteche, le sale studio. Le attività, in assenza di diverse indicazioni e salvo diverse direttive da parte delle autorità competenti, riprenderanno quindi lunedì 2 marzo. Il recupero delle lezioni e gli esami verrà comunicato quanto prima sui canali di comunicazione istituzionali degli atenei. Gli atenei sono in continuo contatto con l'unità di crisi e con i ministeri competenti e provvederà ad aggiornare le misure vigenti sulla base dell'evoluzione della situazione. Scuole chiuse e manifestazioni culturali, sportive sospese e a data di destinarsi anche su tutto il territorio regionale è quanto chiesto dalla stessa regione, Friuli Venezia Giulia, al governo e ad annunciarlo in conferenza stampa nella sede della protezione civile regionale di Palmanova il presidente Massimiliano Fedriga, precisando che è stato richiesto all'esecutivo di adottare le stesse misure previste nelle vicine regioni del Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. E da Palmanova il presidente della regione Massimiliano Fedriga dice non andate in pronto soccorso o in ospedale se vi trovate con il sospetto di qualche influenza chiamate il 112 e da lì appunto si avvia l'iter con tutte le precauzioni del caso. Ma sentiamo allora che cosa è previsto. Ovviamente stiamo seguendo tutti i protocolli anche attivati a livello nazionale e in più faremo materiale informativo per spiegare ai cittadini miglior comportamento in caso di situazione sospetta. La cosa fondamentale è quella di chiamare il 112, se uno ritiene di essere in situazione a rischio, non andare fisicamente direttamente in pronto soccorso dal medico di base e quindi dopo gli operatori fanno una valutazione del caso telefonica e spiegano che tipo di intervento è necessario fare. Inoltre stiamo potenziando tutta la struttura sia del 112 che in feto di biologia proprio per rispondere alle esigenze della cittadinanza. Stiamo facendo una valutazione su siti necessari, quindi strutture necessarie in caso si dovesse presentare la necessità di isolamento e quindi di tutelare la popolazione sana ovviamente in caso ci fosse necessità di isolamento per situazioni sospette e stiamo individuando anche tutti i percorsi all'interno delle strutture sanitarie per mitigare al massimo il rischio di contagio. La cronaca ci porta in provincia di Pordenone a Sacile, un uomo di 61 anni domiciliato, infatti a Sacile è stato arrestato dopo essere evaso dal regime di detenzione domiciliare. Le ricerche sono scattate ancora venerdì quando l'uomo si è reso irreperibile lasciando la propria abitazione nella provincia di Pordenone nella quale stava scontando la pena di un anno e otto mesi per ripetute violazioni alle prescrizioni imposte a quale è sorvegliato speciale. Il 61enne è stato individuato il giorno successivo nei pressi della stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia nel corso dei controlli che sono stati poi intensificati per il carnevale. Quindi è stato trasferito nel carcere veneziano di Santa Maria Maggiore dopo che il magistrato di sorveglianza di Udile aveva disposto la sospensione cautelativa della misura alternativa al prigione. E' ancora cronaca dalla provincia di Pordenone a Dazzano X ieri sera ci sono verificati due incidenti uno a Dazzano l'altro a Gleris di San Vito al tagliamento il più grave è quello a Dazzano dove una giovane è uscita di strada con l'auto si è scantato contro un palo abbattendo quello dell'energia elettrica e anche quello della compagnia dei telefoni ora è grave in ospedale. perde il controllo dell'auto forse per una disattenzione o per la velocità inadeguata alle condizioni della strada e va a schiantarsi e a battere un palo Enel e uno del telefono ricoverato in condizioni serie un giovane e il bilancio dell'incidente una fuoriuscita autonoma che è accaduto ieri verso le 19.30 in via Armantera a Tiezzo di Azzano X per cause dinamiche e eventuali responsabilità all'esame degli investigatori del nucleo radiomobile dei carabinieri di Pordenone il conducente di un utilitario ha perso il controllo del veicolo finendo fuoristrada subito sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Pordenone con i sanitari del 112 i pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo e nello stesso tempo hanno liberato il ferito che è rimasto intrappolato tra ciò che rimaneva dell'auto consegnando al personale medico che lo ha sottoposto alle prime cure dopo averlo stabilizzato il paziente con il personale medico che lo ha caricato su un'ambulanza è partito a tutta velocità verso l'ospedale di Pordenone al Santa Maria degli Angeli il giovane è stato sottoposto a ulteriori accertamenti i medici seppur a scopo del tutto precauzionale vista la complessità del quadro clinico del ferito hanno deciso di riservarsi la prognosi nel frattempo i vigili del fuoco rimasti a Tiezzo fino a dopo le 21.30 hanno provveduto utilizzando l'autogru a rimuovere il palo dell'Enel in cemento sul posto oltre ai carabinieri anche i tecnici dell'azienda dell'elettrica e del Telecom intorno alle 21.30 appena terminate le operazioni di pulizia della strada a Tiezze è accaduto un secondo incidente lungo la strada che da Gleris porta a San Vito tutto all'esame dei carabinieri che hanno spiegato che ci sono state due auto entrate in collisione inizialmente le condizioni dei feriti con i conducenti di due vetture sembravano davvero gravi sono seguiti alcuni minuti di paura ma l'allarme è poi rientrato dopo le prime cure le condizioni dei pazienti non sono infatti parse preoccupanti allora ci fermiamo con questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia ritorneremo con le altre news nel corso della giornata vi auguro un buon proseguimento con la nostra rete continuate a seguirci e buon proseguimento alla prossima